Dalle prime luci dell'alba, più di 40 militari della Compagnia dei Carabinieri di Sora hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino, a carico di quattro persone, di cui una destinataria della misura degli arresti domiciliari a Frosinone e tre della misura dell'obbligo di presentazione presso il comando dell'Arma di Isola dell'Iri, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino. Core business dell'attività illecita del gruppo criminale era lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina. A questo hanno portato le risultanze delle indagini svolte dai militari della stazione di Isola dell'Iri, coordinati dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sora. All'esito delle valutazioni del GIP sono stati emessi provvedimenti restrittivi a carico di quattro persone di nazionalità albanese, responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. La articolata e complessa indagine sviluppata sia con pedinamenti, avvistamenti e controlli che con l'utilizzo di strumentazioni tecniche ha avuto inizio nel maggio del 2021 a seguito del fermo di un uomo che venne trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina ad Isola dell'Iri. L'analisi dei suoi contatti telefonici acquisiti su due cellulari trovati in suo possesso hanno permesso di ricostruire collegamenti e frequentazioni di persone già conosciute agli investigatori, nonché un legame con altri albanesi residenti sul territorio isolano, dediti anch'essi allo spaccio di cocaina, divenuti poi indagati in concorso tra l'altro alcuni legati dal vincolo di parentela. Le attività tecniche effettuate dai militari della stazione di Isola dell'Iri hanno permesso di ricostruire il cosiddetto modus operandi e le gerarchie all'interno del sodalizio criminoso. Al vertice un uomo e suo figlio residenti a Frosinone. I contatti con i clienti avvenivano con l'utilizzo di telefoni dedicati alle comunicazioni per lo spaccio con utenze intestate a soggetti dalle generalità fittizie e quindi in alcun modo riconducibili agli indagati. Le comunicazioni erano già concordate e quindi non c'erano conversazioni, ma solo degli squili di segnalazione e conferma dell'arrivo degli spacciatori ad Isola. Numerosi riscontri e le perquisizioni effettuate nel corso dell'attività investigativa. che hanno permesso di effettuare anche tre distinti arresti in flagranza. Uno dei soggetti arrestati è destinatario dell'odierno provvedimento eseguito di sequestrare un notevole quantitativo di cocaina e di operare il sequestro preventivo di ingente somma di danaro a dimostrazione della fruttuosa attività illecita di spaccio. Durante l'esecuzione delle ordinanze sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari sia a Frosinone che ad Isola dell'Iri con l'aiuto di due delle unità cinofili del nucleo cinofili carabinieri di Roma a Santa Maria di Galeria con i loro conduttori. In particolare, proprio ad Isola, presso l'abitazione di uno dei soggetti perquisiti, che oggi non era destinatario di alcuna misura, è stata ritrovata e sequestrata una ingente quantità di cocaina, circa 65 grammi, il materiale per il confezionamento di dosi, il bilancino, il danaro, tutto posto sotto sequestro. L'uomo, che è uno dei tre arrestati in costanza di indagine, è stato nuovamente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e di sostanza stupefacente ed associato alla casa circondareale di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria informata.